Cari ragazzuoli, se volete supportare la vostra Croatomist su Fortnite è molto semplice ragazzi. Basterà andare nell'item shop, cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Croatomist. Una volta inserito il mio nome, basterà accettare e il gioco sarà fatto ragazzi. Quindi grazie a tutti coloro che decideranno di supportarmi. Ah ragazzuoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Minigun. Si sa che muoiono, non so se muovete. No, uno l'ho killato. Guarda, 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 guarda. Arriva, parca. Ho shield per te. No, sono a posto. Cosa sai? Solo che abbiamo... No, solo la minigun. Ho fatto due tizi. Abbiamo fatto torretta contro minigun. Allora, guarda. Grazie. andiamo. Per teyrus. Ah sì, da dove c'è Se l'hai fatta? 200 IQ, 200 IQ, 200 IQ E' tirata la Klinger, solo la Klinger aveva E' la semiglienza a punizione Oh, mi pushano Tieni Mi tiene uno C'è una K Il tattico grigio con tre colpi come conta Però andiamo, vai Tieni Abbiamo pure il rip per andare Questo è buono Ho un colpo adesso di tattico Questo potrebbe essere un mongame Se pure la morita è un Facciamo il record veramente, Barca Impossibile, ragazzi Dovevo splittarci dall'inizio L'ho attaccato E' laserato Uno è proprio one shoot Guarda se è bianco Guarda se è blu Il guida è un'altra Consiglio La mia E' napi Il guida è un'altra Questa è un'altra Tiene delī Questa è un'altra Questa è un'altra Dai 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 Ma ci sono le pompe a questo game? Non lo so, io posso fare il tattico Mi devo un pump, cioè, ragazzi, ma che è? Ma che è sto game? Anche io ho il tattico grigio Non ho neanche colpe, ho una colpe C'è una colpe singola, però, sopra E' una venti, dai, dai Siamo sopra intanto Non ho materiali Andano E' da driftare E' stanno volando Provo a sparare, ma ancora rimangono Non puoi un pump singolo in più Vedi lo scildone Non c'è doveva essere L'albero C'è un altro scildone Tiratelo tu lo scildone Voglio laserarlo questo qua Ah, scusami Fatta Hs Da dietro, da dietro Ok Puro Mi sta laserando Il controller What? 191 metri Scusami Sotto? Sotto Ah, 60 di materiale Il tattico grigio Viene da sud No, non via Cioè, però sta a sud C'è l'ho a cura C'è l'ho Ok, anche lo Buscia Uh-huh Però, one shot Ma ci vado C'è lo scildone fuori fatto Lui è qua, tipo Uh-huh Vai, vai Vai, vai E dove cazzo è andato? È più vicino Lo sento Sta volando Ho 50 di materiale Due che volano Due Due Blu ancora Ho fatto Dopo Ah, così proprio No Di vendere quelli sopra però Bacca Vediamoci le ground Eh, sì Vado proprio sopra Vedi dopo Mi in bocca Questi Eh, io lo lasero 92 46 bianco I one hit Bravo, GG C'è un pompa Uff, pompa leggendaria Io ho zero colpi Ho zero colpi di pompa però Vieni L'ho a 50 Eh, tiro le Bianco Ti tiro tutte le Klinger sotto Ok, anche qua Adesso vediamo Adesso vediamo quegli altri Ora arrivo, arrivo Questo muore Provate Andiamo da questi Andiamo da questi A terra, vai, vai, vai Io non ho mazza Quindi sarà un fight Non puoi stare Io non so 200 ne ho Ah Vai faccio la strada Stilata la kill Terra Ok, sono scelta su io Ma che non ho più mazza Io questa era full Aspetta, ho fatto un sacco di mazza È pieno qua È pieno, è pieno Ok, anche il gioco È blu Che cura hai? Che scudini è due e bello Ok, stai giocando la sicura Andiamo, andiamo Andiamo Ok, red Dai, la scuola Mi hanno sempre nato Mi servono Dove andiamo a scendare Parca Servono gli scudini? Sì, sì È vero che devi darmi tipo 15 secondi Ah Meditate a tutto Vai, vai, vai Non rischiare Ah, in entrambi il cecchino Stanno camperando Uno dietro l'albero E uno su Di una scala Un quadro di rift E la push C'è uno blocco là Inizio c'è un altro Ho fatto 45 Quello con la skin Strana Cato Amico ti sta guardando col cecchino Lo vedo Ho tollo shield Dopo non è più Anche io il cecco Ci trovo Ok, la picca Vai, la push Ancora due rift Io due Mi rodi nei ground Non me la rift io Parca Non ti preoccupare Ho già faccio la vera Arrima Arrivo Sfonda Metto una jump Vabbè c'è Arrivo Prendo le ground Però poi io Marco Guarda no Guarda no Guarda il mio Ok Trovo di uno Arrivano almeno a 30 bomba Uh a voi Siamo a Io 15 Eh io 16 Te ne vediamo a 31 Gg Ma Ah lo vedo Lo vedo Era una puntata Era una puntata Arrotondata No Ah il cecchino Ah il cecchino No L'ho distrutto Uffa però Mentre le skill 32 bombe boys A me Che Si chiama Marco Devi dire qualcosa a youtube Barca di Napoletano Oppure no No Non è da dire Ti faccio far vedere Le tue kills Che ho già fatto Esc Ah beh Non te lo dice là C'è un modo Per farlo vedere Ti puoi farlo sbagare No Che bello Che bello Oh my god 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 Grazie a tutti.